ah finalmente sono tornata a casa è stata una settimana super intensa sapete che c'è adesso voglio vedere tutto quello che ho fatto in questa settimana mi è sembrato un mese quasi nessuna penso nessuna a questo questi addominali ragazzi la verità la vita tra fatta la mamma eccomi young and blonde si sta direttando la 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 i love you like la 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 i love you like la 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 ma Quindi adesso qua il programma Uno, due, tre, quattro Ma ancora presto? Si inizia domani Grazie a tutti Noi, resta qui con me Aspetta, ti copro tutte È bellissima Guarda io della sottogonna, ma resta qua Allora, Dina, come senti questo gasto? Guarda, io appoggio la mia Il pescato è buono millato Buonissimo 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 Per portare un cornetto con la nutella E un cappuccino E una crostata di marmette E ci diamo Io sto portando rispetto Me la fanno fare una foto L'ultima serata Sono tutti carichi No, ma secondo me Ante non si chiama Mueve un serenciatore pure Mueve un cornetto con la nutella Mi rende di l'ultimo Mi rende di ludone Mi rende di ludone Mi rende di ludone Che colore hai il vestito? Giallo Verde? Lilla Blu? Lilla Scommesse, scommesse Il festival di Sanremo Ci aveva promesso che sarebbe tornata E nel festival delle promesse mantenute Questa sera è pronta a scendere le scale del Teatro Ariston E con noi Diletta Lerotta Questa sera è pronta a scendere le scale del Teatro Ariston Buongiorno 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 Questa è la cantina Sono contenta che tu sia qui Anche io Mi sei mancata Grazie Io mi sono mancata un po' Moltissimo Ma ti ho visto in buona compagnia Ah moltissimo Io ho detto Quando torna la Leotta E devo presentare Un faccio di canzone con lei Bravo Perché schierate in campo Una formazione perfetta Io oggi mi sono vestita un po' da palma d'oro Visto che è il grande finale È vero Però il pallone d'oro Di questo Sanremo 2020 Va a da mangiare Che figata ragazzi Spero che anche a voi sia piaciuto tutto quello che è successo Io mi sono emozionata un sacco a rivederlo Noi ci aggiorniamo presto Hai gioco a chi?